Oh mio dio sono tornato Allora ragazzi sono stato veramente veramente cattivo ultimamente A parte che non mi sono messo a fare video per veramente tantissimo ragazzi a me è dispiaciuto un sacco il fatto che sono tre settimane quasi Sono quasi un mese che non tocco e non faccio video E la cosa mi dispiace un sacco però mi hanno detto appunto anche i miei amici mi hanno detto ma senti Ok non fare un video perché magari non hai tempo e non fai un video al giorno non ce la fai più è il tuo motto ok è tutto Però non è meglio non c'è non fare proprio video piuttosto ti adegui e fai qualche video in generale Quindi ragazzi mi sono programmato l'idea del fatto che per tutta la settimana posso fare almeno tre video al giorno Cioè tre video in tutta la settimana Mi dispiace perché c'è gente che invece fa tre video al giorno io tre video a settimana sono sceso Mi dispiace però veramente è una questione di tempo quindi risulta difficile scusatemi tanto Però comunque ci sarò sempre quindi non c'è non si ferma niente nel senso Sinceramente mi verrebbe in mente il fatto che possiamo fare tutto quello che vogliamo Solamente ragazzi scusatemi se la mia assenza è stata tanta 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 Infatti ragazzi cioè subito sono tornato di botta con una mod particolare su GTA E vabbè è normale classico nel mio canale infatti ho detto ma però portiamo qualcosa di figo Ho detto va bene qualcosa di diverso che ci faccia dire BAM sei tornato cavolo E quindi eccolo questo ragazzi è vedete in alto a sinistra c'è il mio push to toll come si chiama Vedete quel puntino col mio logo e con la scritta wolf in alto a sinistra Non wolf o tantano mix x ma wolf Quello lì è il mio microfono praticamente è di discord ed è il mio discord se volete in descrizione almeno potete parlare con me Però ora sto registrando nella stanza registrazioni perché c'è una stanza registrazione adeguata a questo E la cosa bella è questa che questo puntino si accende cioè si vede solamente quando parlo Se non parlo vedete come diventa Nero Cioè è carino È carino però mi sa che devo toglierlo perché potrebbe comprenderarsi con gli altri HUD Che è vero chop e lupo wolf o tantano mix x E in basso vediamo anche c'è wolf o tantano mix x e wolf o tantano mix x Comunque cioè è un pochino dappertutto Ora mi chiederete e vi chiederete perché ci sono questi HUD In realtà gli HUD sono stati migliorati tantissimo oddio cosa ho fatto Sono stati migliorati tantissimi gli HUD e quindi ora posso anche modificare e switchare arma guardate Cioè allora sto facendo una cosa bellina che sarebbe Ah premere oddio premere sempre due ti fa cambiare arma Ah io ho tre ok Guardate che roba vabbè questo non lo sapevo Comunque fatto sta che possiamo provare a fare una cosa molto carina Questi HUD non sono solo appunto del gioco Però possiamo infatti vedere il numero dei proiettili Guardate quante roba abbiamo Se tipo prendi il lanciagranate te lo segna E ci segna che abbiamo intanto il lanciagranate in basso a destra E ci segna che abbiamo anche 10 colpi e il tipo di proiettile dovrebbe essere Se prendiamo il cecchino naturalmente 10 colpi e l'immagine del cecchino Non so prendo la vita elettrice 30 colpi Il taser? Non lo so No è vero vorrei vedere tipo una mina invece come appare Non appare la mina Non appaiono nulla le molotov, le stinture Ah le stinture 1000? Le stinture a 1000? Non lo sapevo che le stinture avesse 1000 Interessante ok La tannica niente No dovrebbe avere 100 in teoria No? Non te lo segna? Va bene ok La granata? Niente Ok non le segno solamente le granate non le segna il C4 Peccato Vabbè però comunque tutte le armi in teoria dovrebbero funzionare Voglio vedere cosa vede Ah! Cos'è? Perché dice 192? Non... non aveva... vabbè non lo so comunque ragazzi Comunque alcune armi sono decisamente migliorate Vedete? L'HUD è anche carino eh sono sincero Infatti devo rimuovere l'HUD Infatti ho detto ma perché non facciamo una moda dove appunto mostriamo Guarda tanto è bella GTA Guarda tanto è bello il mondo di GTA Mi è mancato ragazzi Da un po' che non gioco proprio a GTA Non tocco proprio il computer Non lo so veramente sto troppo tempo lontano E mi dispiace però adesso ci sono Quindi aspetta mettiamo intanto il time più decentemente Le 16 mettiamo le 14 dai Perfetto lo teniamo così sinceramente Anzi in realtà non posso perché andiamo a fare appunto una missione La missione non so neanche qual è Ah si no in realtà lo so Infatti andiamo a provare questa modalità Perché non solo ci fa vedere questi HUD Ma fa vedere gli HUD anche delle altre persone Vi spiego meglio Andiamo su partita Carica partita No scusate Ehm rigioca la missione principale Scusate E andiamo su Stracci in libertà Perfetto E' una missione che uso sempre come esempio diciamo per fare i video Ed è perfetto ragazzi Questa scena io la odio Sono sincero Sono sincero Quanto vi da fastidio Ottimo è cresciuto il GTA Sono cose che capitano Al lavoro e del mestiere Mi è mancata questa cosa Dai Tacci tu Ok Eccoci Si sta già sfregando le mani E ci stanno aspettando in macchina Quindi mi sa che è il momento di entrare Guardate quanto è figo il personaggio Con i jeans ci sta benissimo Comunque spiego subito la radio Perché già mi da fastidio Mi danno fastidio solamente quando loro parlano Cioè veramente Cioè ragazzi Comunque Mettiamoci un attimo in prima persona E facciamo una cosa Ok ho tolto gli HUD Perfetto Non servono semplicemente Intendo Non è una cosa importante No non serve Assolutamente Però in realtà Non so neanche dove devo andare Ok perfetto Andando a sinistra Perfetto è comodo Dai Perché scappa Va bene ok Non ci interessa Guarda lì come passa Quello lì Noi siamo tranquilli ok Non andiamo con il rosso Aspettiamo Anche se purtroppo questa missione Si svolge di notte Però è molto appunto per questo Lo sto facendo in realtà Dove devo andare Non mi ricordo più Ok a sinistra Ho sbagliato corsia Qua è rosso infatti Vabbè non importa Dove devo andare Non mi ricordo più Oh sì sì Ma so la zona in realtà Non è vero Comunque naturalmente ragazzi In questo caso Andiamo in alto a sinistra E vediamo che Non solo c'è Wolf89XX Che sarei io Ma ci sta anche Aklerk Che sarebbe appunto Non so nemmeno chi sia Lamar normalmente E Stretch Ma chi è Aklerk? Chi è Aklerk? Aklexander Klerk? Non so chi sia Se qualcuno lo sa Meno scrivano i commenti Perché non ne sono capace Boh Non ho idea Ok perfetto Ok perfetto Andiamo E prendiamo appunto Una torcia Semplicemente quello che ci serve Silenziatore E nient'altro Non serve più niente Perfetto Possiamo andare via Vi prego Leviamoci dai fogone Ok Però questo Klerk Non so chi sia Cioè c'è la mia salute C'è la salute di tutti E la mia Non so perché Va bene Andiamo avanti Ser Venga Entrate Boh no Non ho già rovinato questo affare Davvero Ok Siamo arrivati Spero di poter parcheggiare Decentemente To Preciso Perfetto Ragazzi andiamo Tutti pronti eh Ok Allora qui inizia Iniziano diciamo i casini Allora Nient'altro mettiamo la visuale Più decente possibile Ok più vicino Guarda che bello Ok perfetto Comunque iniziamo Dai che sono già pronto Abbiamo una scena particolare Questa qui è particolare È bellissimo il fatto che comunque Il lupo appaia così Cioè veramente Esattamente sono Wolf E bisogna notarlo Cari lupacchiotti Questo è il mio personaggio E lo rimarrà per sempre È bellissimo Ok Qui comunque La sensazione La situazione Degenera malamente Ok Allora fermi tutti Abbiamo il fucile a pompa Adesso ragazzi Andremo a vedere la cosa più bella Che boom Introduce questa mod Ovvero il fatto Che possiamo Uccidere tutti E apparirà sempre scritto Che muoiono Maledizione Quando muoiono male E comunque La nostra vita Ci si è abbassata Vedete in alta a sinistra Abbiamo la nostra vita E in basso a destra Abbiamo la nostra vita E quella delle persone Che dobbiamo salvare Diciamo Vediamo un attimo Se la vita di Mamar Si abbassa Appena c'è questa esplosione Classica Tiè Tiè Ok perfetto Ragazzi Non vi siete fatti nulla Cioè loro hanno una vita completa Intera Boom Ok Vai Ok vai Fatti sparare un pochino Voglio vedere se l'Amar Prende danno Non lo prende Ok No L'ho mancavo Oddio Oh morto Perfetto Grande ragazzi Grande No mi stanno facendo Oh mi stanno sparando Piame che a loro Cioè Quello è il problema Che dilemma Ok Verda Preso Ok perfetto Ok fammi salire Fammi scendere Ok Ottimo Ottimo No non li faccio andare avanti Piuttosto meglio che vada io Perché ho paura che muoiono Per il piede di ozie Piuttosto È molto più facile Comunque Facciamo piano Ragazzi Non so Missioni Oh cavolo Non so Missioni Di missioni Magari un pochino più complicate Occhio Io ho paura Missioni un pochino più complicate Dove praticamente possono esserci più morti Non conosco una missione più complicata di questa Cioè più complicata Più comunque Non complicata Con più morti Cioè comunque Che ti puoi muovere bene Diciamo In close quarter Ecco La mettiamo così In close quarter Io ho paura E c'è da averne infatti Guardate che casino Oh merda Io muoio Io muoio Io muoio Non so cosa succede se muori Sinceramente E io le sto ricaricando Ok perfetto Vedete comunque Cioè se noi spariamo Oh mio dio I colpi si abbassano Visto Ho sette Ora ho ricaricato Naturalmente Oh malizione E dai E dai E dai Oddio Aspetta che cosa è successo Dove sono? Ah lì Morto Ok perfetto E ricarichiamo Viste Vedete Uno di HP Ora lo ricarico Un HP Un proiettile Basta nel caricatore E ora lì L'ho riempito Di nuovo Stiamo sprecando Proiettili Tannazione Tre colpi Abbiamo ancora tre colpi Possiamo andare avanti Ok ho preso un po' di Oh ho preso un po' di vita Meno male Ora vedete che Infatti la mia vita È al massimo Ok Questo non è morto Questo non è morto Questo non è morto E dai ciao Ora è morto Perfetto Volevi Comunque mi sa Allora Ritengo che sia importante Il fatto che Avrei potuto Mi sarei potuto mettere Una mod Con la gore Che praticamente Succedeva che I danni si vedevano Nelle facce delle persone Potevamo fare dei danni Della madonna Wow Ok Ora ragazzi Ci serve per forza Un'arma A proposito Bisogna per forza Cambiare arma Scusatemi Ed è Boom Tutti morti Perfetto Ok Era voluto solamente Fare questo In realtà Ritorniamo col fucile A pompa E togliamo Il nostro HOD L'HOD è inutile In questo caso Perché appunto Abbiamo questa mod Che introduce L'HOD Molto molto meglio Di questo Di come ce la diamo noi Quindi ne approfittiamo Ce lo giustamente Mi sembra Oddio Mi manchiamo A tornare a fare video Vai all'inferno È bellina Questa qualità L'HOD è carino È come un HOD Totalmente reinventato Cioè mi piace L'idea Dell'HOD reinventato Ma ti levi Ma io ho spento Perfetto Va all'inferno Le luci comunque Sono fatte benissimo In GTA Proprio in generale Comunque Le luci di GTA L'illuminazione È fatta veramente Da Dior Rockstar So sempre farlo benissimo Ok Sir Ci serve la sua Moto macchina Che cavolo hai Fuori Dalle Scusate Adoro Però No Lasciare la scritta Dead Nelle persone Perché è particolare Ragazzi Muovetemi Ah regà E boh Cosa Li hanno ammazzati Ehi Va all'inferno Brutto Ok cavolo No Chi è morto Chi è morto E dai È morto l'amar No Accidenti Però è bello Come appare l'amar morto Mi piace questa cosa È tipo Non so Interessante Riproviamo Cioè potevamo Provvivere Invece è andata male Ok prendiamolo Prendiamolo Vai 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 Dannazione ragazzi Muovetevi Muovetevi Ma che cazzo Perché Sì Vabbè Muoviti Brutto imbecilo Ok Ok Ora dobbiamo solamente Ehi Dobbiamo solamente scappare È questa casa mia Sì ok Perfetto Non mi sono abituato Sono abituato alla villa di Franklin In realtà Ok perfetto Mettiamo il retro Madonna ragazzi C'è No Ragazzi c'è Dottor Dre dentro È bellissimo Spero di aver detto bene Spero di aver detto bene Spero sia Dottor Dre Perché se no mi dicono Eh non sei niente di rap Ed è vero Comunque l'idea era Era molto carina Però ora volevo vedere altre cose Mmm Dice molto parlo C'è in questa Vabbè siamo nel ghetto Però voglia Madonna Missione completata Guys Questo qui è un figlio di un cane Lo vorrei picchiare tantissimo Però comunque Espandiamo Abbiamo fatto Allora precisione Ah andata male Checkpoint Colpia la testa 10 su 10 Buono eh Anche perché non avevamo la mira Perché non avevamo l'HUD Senza marchio No fammi leggere Non avevo finito di leggere Vabbè Però ci abbiamo provato È andata bene Rispetto a come mi aspettavo Sinceramente Dai E comunque L'HUD È carino Cioè ragazzi Rinventare l'HUD È una cosa interessante Se ci sono altri tipi di HUD Sarò felice di farci altri video Perché sono cose carine Che ci stanno Con quelle cose che ti dicono Wow È fatto bene Cioè è una mod fatta bene Wow Alza le mani al signore E rieccoci Ok Abbiamo un'altra fetta di Off-White Questa qui è un'altra in realtà Però Anche questa è carina Ok Boom Guardate che luce In realtà ragazzi Sapete Ho preso molto ispirazione Dal logo di Off-White Perché appunto Avevo intenzione di fare le mie magliette Con il logo di Off-White Ho detto No Prima che mi arrivi la denuncia Evitiamo Però è piuttosto Uguale Molto 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 uguale Infatti Non so se Prima o poi Non so Devo vedere se ho problemi legali Nel pubblicizzare quella cosa Perché naturalmente Ci farò un guadagno Dietro al merchandising Nel caso Volessi fare appunto Un tipo di maglietta Sarà questo il logo ragazzi Ve lo faccio già vedere Però non è detto niente Non sto programmando nulla Semplicemente Era per dirvelo Perché ci ho lavorato per molti giorni Quindi ho detto Va perché non farlo vedere Tanto per farvi capire Che comunque Nonostante ciò Io Sono presente Non ho lasciato niente Nella piattaforma Nel nulla Perché naturalmente Per youtube guardavo sempre E Niente Semplicemente questo Voglio farvi sapere che ci sono Spero che il video di oggi Vi sia piaciuto Tra l'altro abbiamo chop qui Voglio fare una cosa con chop Sì ragazzi Non voglio Non voglio ucciderlo di per sé Però Vi serve ucciderlo Per il semplice fatto che Eh Volevo Cioè semplicemente per questioni Per provare questa mod ragazzi Ok Allontanati Ed è Ciao Ok Dato appare la scritta Dead Ah no Non appare sopra In alta sinistra È scomparso direttamente Perché prima con Lamar Perché eravamo in missione Ha apparso proprio il logo giallo Con scritto X Di Lamar Quindi Volevo solamente provarlo Per il resto ragazzi Tranquilli con la polizia Di adesso Me la vedo io Tanto abbiamo solamente la stella Noi naturalmente ragazzi Ci si rivede in un prossimo video Un saluto da Vol E bello a tutti Ciao Ciao